Paracadutisti da ogni parte del mondo e 2000 lanci in poco più di due giorni. Ritorna per la 34esima volta il trofeo Città di Belluno, ormai riconosciuto a livello internazionale come uno dei più importanti eventi nel panorama del paracadutismo di precisione, tanto da essere una delle sei tappe fisse del World Cup Series, la Coppa del Mondo di Atterraggio di Precisione. Organizzato come di consueto dall'Associazione Paracadutismo Belluno in sinergia con l'Aeroclub Belluno vedrà alternarsi sui cieli sopra l'aeroporto Arturo Dell'Oro oltre 2000 lanci. Un bellissimo traguardo, portato avanti di anno in anno con sofferenze, ma sempre portato avanti. L'abbiamo fatto anche nel 2020, anno della pandemia, l'abbiamo dovuto fare 8 ottobre quando ci hanno liberato, si può dire, però è un continuo successo. Si comincia venerdì 11 agosto per proseguire fino a domenica 13. Le squadre iscritte sono 50 per oltre 250 concorrenti da 27 nazioni da tutto il mondo. Avendo molti atleti partiremo venerdì mattina alle ore 7, cercando di abbreviare più tempi possibili e sperando anche nel meteo favorevole perché ci saranno in programma circa 2000 lanci in due giorni e mezzo. Una vetrina importante non solo in ambito sportivo ma anche turistico. I partecipanti e le loro famiglie infatti approfittano dell'evento bellunese per fermarsi più giorni alla scoperta della città e delle dolomiti che la incorniciano. Siamo molto contenti di questo appuntamento annuale che porta a Belluno centinaia di concorrenti e anche familiari di concorrenti ed ha un'occasione di visibilità incredibile alla nostra città anche perché arrivano concorrenti da tutte le nazioni, dall'Europa ma anche da fuori Europa e soprattutto inserisce Belluno in un circuito di gare internazionali che va a finire addirittura a Dubai a novembre.